Eccomi qua con Resident Evil Operation Raccoon City Qui da Alessio19870 Via! Sto continuando con la missione Allora, devo raggiungere la piattaforma che è qua Via! Lo faccio tutti Prima ricarico A tutto il personale, evacuare immediatamente Sì Via! Ecco l'ascensore pat in alto Ok, si prema l'ascensore Oh cavolo Ecco il Resident Evil 2 Butta fuori il tyrant dall'ascensore Lo uso la magnum Lo spari al cuore Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Scegli sta tosse E ora ti spara al cuore E urla Urla quanto vuoi E ora ti spara al cuore Lo spari al cuore No! No! Ehi! Parliamo le stronze Ah si Ah! Se ti sta bene Diccia Buon rivederci Munizioni E si fiamme un'altra volta Perché? Ecco i leaker Sarebbe il tyrant Un casino Un casino Eh facciamo un po' Il flicker di merda Oh e morite Pezzi di merda Ricarico Guardalo Sì 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 Oh pezzo di merda Oh Morite pezzi di merda Sì Sì È caduto di sotto Oh E muori Vicker di merda Oh Diccia Buon rivederci C'è ancora un altro? Che è? Non ti sei accorto? Eh? Ma va Ah Che coglione Riparte l'ascensore Occhio alle fiamme Devo mettermi di qua Ricarico Qua mi ricordo Ecco Mo' di qua Ok Ci sono quasi Si ferma l'ascensore Perché? Perché si è fermato? Si fa sul serio Ah sì Si fa sul serio Eh? Un'altra volta Devo buttarlo fuori Cazzo Ma neanche il tempo Guardalo che pezzo di merda Spagliacuole come ho fatto prima Cazzo Oh cazzo Si è messo qua E si è cascato in pieno Uh Mamma mia Si è incastrato Ma in mo' ti colpisco Cazzo Ricarico Cazzo E urla Oh merda Occhio a sto attacco Munizioni Ti metti là E ti faccio cadere Niente Aia Ma si è incastrato No 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 Poi mi ha preso di mira Ecco si mette là Urla Io ti colpisco al cuore Al cuore infuocato Ah vaffanculo Ricarico Ma le prendi Le prendi Ecco se fai così No 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 Berta 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 Ti prego No Ma che sfortuna proprio E riparto ancora Qua l'ascensore Ah vaffanculo Ricarico Tutto tyrant Di merda Oh lo spray medico Meno male Che succede Ok Eh già Eccolo lì Incazzato nero Oh cazzo È salito Ecco Infuocato Ti butto fuori Ti butto fuori A calci Guardalo Guardalo Guarda come è incazzato Ma tu guarda Vuoi fare come Mr. X Eh pezzo di merda Vuoi fare come Mr. X Nella missione Carin 2 Perché mi romperà i coglioni Oh Ehi Devo buttarti fuori Dall'ascensore Altro colpito Sì Dai Dai Devo colpire al cuore Vaffanculo Pezzo di merda Sì È caduto giù Oh Fuori uno Ricarico Mo c'è l'Iker E un'altra volta lui Eccoli 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 Ma dove cazzo sono Eccoli Voi le prendete Bastardi Ganata Dai Colpisci Sì Da colpiti Però Mi sono troppo in là Oh Ehm Andrata Affanculo Oh cazzo Ricarico Boom Morite Stronzi Oh Sì Occhio Bastardo Si E vai Un altro Ottimo E si parte In alto Ok Munizione Agua secondaria Di qua Ecco Ma che cosa Ma che cosa Ma tu sei pezzo di merda Oh tu devi Ah stai qui Ecco incastrato Ho proprio il cuore Il cuore infuocato Devo mirare Eh Se fa così Non riesco a prenderlo Ok Girati E si E si copre Ti metti lì E ti colpisco Occhio Aia Di qua Di qua Di qua Ricarico Bastardo Figlio Di puttana Rianima Ecco il cazzato Oh merda Oh merda Oh merda Ecco si mette la Berta al tappeto Ok Ok Uh Sei incastrato E ti colpisco Ah vaffanculo Smesso là Dai mettiti nel bordo Del caniere Ma non lì Vedi questi quattro bordi E mettiti là Dai Oh hai capito eh Sì Di ciao Arrivederci Oh Ti ho eliminato Pezzo di merda Che non sei altro Oh ce l'ho fatta Come andato in cima Come all'inizio della missione Ecco esplode tutto Eh Non è morto Ma non lo rivedremo Niente Eh già Domando Stiamo ancora Seguendo la spia Dione Scandidi Richiediamo assistenza Passo Sì Abbiamo inanzato Dione Scandidi È obiettivo prioritario Non deve assolutamente Lasciare la città Sperate ci sia Un modo Di rimediare A questo casino Eh sì Missione compiuta Perfetto Ho preso una A Ok andiamo avanti Oh ce l'ho fatta A combattere la missione Più 9.766 Oh ce l'ho fatta Finalmente Boom No non ci arriva A livello dopo Questa è la sesta missione Completata Quindi c'è la settima missione Che sarebbe l'ultima Da fare Vediamo la settima L'ultima missione Come si chiama Ecco Capolinea Ottimo Questa sarebbe L'ultima missione Che devo fare Capolinea Che sarà la settima E ultima missione Quindi dopo la sesta missione Ci sarà la settima missione Però una prossima parte E dopo aver finito Questa missione Ci sarà la galleria Immagini Del gioco Cioè Le immagini Che vi devo far vedere Quindi mi avvicino Verso la fine Del gioco E Le immagini La galleria Quindi l'ultima missione E poi L'ultima missione Da fare Che sarebbe la settima E poi La galleria Da fare Cioè Fa vedere Le immagini La galleria Che ho sbloccato Mi avvicino Mi avvicino Verso la fine Del gioco E dopo Le immagini La galleria E poi Finisce Finisce così il gioco Quindi a modalità galleria Vi dirò Che gioco fare Dopo Resident Evil Operation Raccoon City Bene Quindi Vi dico Che finisce qui Il gameplay Di Resident Evil Operation Raccoon City Quindi un ciao Da Alessio 19 870 Al prossimo gameplay